Alcuni di voi mi hanno chiesto come reagisci quando qualcuno commenta i tuoi post insultandoti? E allora facciamo questo video! Anzitutto devo fare una premessa, utilizzo i social da quando è uscito Facebook, quindi da una marea di tempo. E un'altra premessa è che ringraziando Dio in realtà io non ci ho mai avuto dei commenti largamente offensivi, tranne alcune parentesi. Quindi sono anche abbastanza fortunato. Ma al di là di quello ho avuto a che fare con gli odiatori seriali, quelli che adesso chiamano haters. E allora vi spiego qual è un po' il mio modo di pormi. Perché non ho lasciato i social e YouTube per loro? Perché essenzialmente non me ne frega niente di quello che scrive la gente insultandomi. Accetto tutto, i commenti, le critiche costruttive, siamo sempre alla ricerca di far meglio le cose. Ma gli insulti proprio no. Il motivo parte essenzialmente dal perché utilizzo i social. I social secondo me sono uno strumento, sono un mezzo, non sono il fine. Faccio video perché mi piace e per condividere con gli altri l'esperienza del mio essere cristiano che vivo nel quotidiano. Non devo vendere niente a nessuno. E quello è già un buon punto di partenza. Il mio motto è non devo convincere nessuno di niente, ma al massimo testimoniare agli altri il motivo della mia felicità. Tra l'altro nel momento in cui mi rendessi conto che utilizzare i social togliesse spazio anche solo a un caffè con la mia gente, a quel punto chiaramente smetterei di utilizzarli. I social per me sono un input dalle relazioni che rimangono comunque reali, ma che non possono togliere spazio alle relazioni concrete guardandosi negli occhi. Un emoticon non sostituirà mai uno sguardo. Un messaggio non sostituirà mai un guardarsi negli occhi e una stretta di mano. Quindi quando qualcuno mi insulta sui social mi tocca? Umanamente chiaramente sì. L'avevo comunque messo in preventivo, anche se ripeto a me succede veramente raramente la rimetta. Quando ti esponi ci stanno critiche più o meno costruttive e anche insulti. Purtroppo perché la gente è abituata a vivere i social come un mezzo per sfogarsi anche. Non è sempre così, eh? Quindi punto primo, l'avevo messo in preventivo. Punto secondo, è solo una condivisione mia, quindi in realtà mi tocca solo relativamente il fatto che qualcuno mi insulti. E punto terzo, per come sono fatto io, magari non lo direste mai, essendo una persona che ha sempre combattuto con la sua timidezza, a volte umanamente mi tocca. Ma ho fatto anche un lavoro su me stesso per cui ultimamente, negli ultimi anni almeno, ho sempre preso più coscienza di una cosa fondamentale. La mia vita non può dipendere dal giudizio degli altri, che sia positivo o negativo. Perché vi dico questo? Perché il metro di giudizio in fondo è quando torno a casa la sera e mi guardo allo specchio e mi chiedo Davide, hai fatto quello che potevi fare? Cercando di farlo nella maniera migliore? Certo si può sempre migliorare, ma quando sei in coscienza sicuro di aver fatto il meglio che potevi fare, quello è già un buon punto di partenza. Ma torniamo agli odiatori seriali. Umanamente quindi mi toccano, ma fino a una certa. Chi critica gli altri, specialmente da dietro uno schermo, è una persona insicura. In realtà manifesta la sua infelicità. Questo mi fa pensare ancora una volta a quanto invece sono felice io della realtà che vivo. O parlo di insulti, non di critiche che aiutano a costruire qualcosa. Diciamo che quindi mi fanno anche tenerezza queste persone. Io parto dalla prospettiva che comunque ogni secondo perso a criticare la vita degli altri, è un secondo perso a costruire in me stesso una persona migliore. Non voglio sprecare il tempo a pensare agli altri. Ho tanto da fare per costruire una vita, cercare di migliorarmi. D'altra parte però, nonostante io sia fatto così, gli insulti sui social a qualcuno mettono in difficoltà. Qualcuno lascia, qualcuno non si sente libero di esprimere la propria idea perché qualcun altro si sente in diritto di insultarmi. Beh, parliamo tanto di bullismo. Il bullismo e la violenza, le guerre, nascono da quanto noi coltiviamo la pace nella nostra vita. O da quanto noi non la coltiviamo, oltre che dall'ignoranza evidentemente. Sappiate che odiando non fate una cosa bella per le persone che avete accanto. Ma di riflesso non fate qualcosa di bello per la vostra vita. Non sprecate il tempo a contestare gli altri, ma costruite la vostra quotidianità. Rendetela bella! Questo è il consiglio che vi do. E' il motivo per cui in realtà quando mi chiedono, ma ti senti toccato dagli insulti che ti fanno? O dalle critiche che alla fine non hanno una base solida? Umanamente sì, ma utilizzando i social ho messo in preventivo che ci sarebbe stata questa opportunità e quindi ho fatto un lavoro su me stesso. Un lavoro che poi è di condivisione e che posso in qualsiasi momento smettere di fare. Perché sono felice della mia vita al di là dei social. Ma che comunque non smetterò di fare solo perché a qualcuno non fa piacere e mi insulta. Deve essere una scelta mia non farlo. E quindi è questo il consiglio che do alle persone. Non ascoltate chi perde il suo tempo per criticare la vita degli altri. Imparate a lavorare sulla vostra. Ne avrete tante soddisfazioni. Ricercate la felicità. In attesa della vita eterna ci hai chiesto di vivere il nostro quotidiano. Anche perché la vita eterna passa attraverso quello che viviamo nella nostra ordinarietà. A chi invece si incapponisce per commentare, per cercare di mettere a disagio, per insultare le persone. Dico fatevela una vita. Perché agli altri, e tra gli altri ci sono anche io, non frega assolutamente niente di quello che pensate della loro vita. Comunque partendo da quello spunto che mi è stato dato. Grazie perché mi è stato dato un modo di spiegare come vivo la mia quotidianità con i social. Che poi si riflette anche nella vita concreta di tutti i giorni. Quindi gente, se avete voglia, ditemi voi cosa ne pensate. Scrivetelo qui nei commenti. Ci vediamo presto con altri video. E vogliatevi talmente bene da vivere la vostra vita fino all'ultimo secondo. Dando tutto quello che avete. La vita è bella. Felice vita gente. Ah, se vuoi, iscriviti al mio canale YouTube, che è questo. Dovrebbe essere di qui. L'icona per iscriversi. L'icona per iscriviti al mio canale YouTube, che è il nostro canale YouTube, che è il nostro canale YouTube, che è il nostro canale YouTube.